La ripartenza della Superlega dopo oltre 20 giorni di pausa non ha mancato di miettere vittime illustri. Su tutte la capolista Civitanova che ha subito la prima sconfitta stagionale in casa per mano di Milano. Anche la seconda della classe Perugia ha dovuto soffrire per avere la meglio su Verona, impresa che le è riuscita dopo 5-7. A dare segnali migliori sono state le giallo-blu Modena, vincente 3-0 su Piacenza, e Trento che si è imposta con lo stesso punteggio su Monza, andando ad agganciare Milano al quarto posto in classifica. Bisogna sottolineare l'assenza importante dall'altra parte di un campione del mondo, che conta. A noi mancava Urus, però per loro era l'opposto, quindi è un'assenza importante. Nonostante tutto, soprattutto nel secondo sette, abbiamo fatto una partita egregia a muro difesa, che ci ha messo in grossa difficoltà nel cambio palla. Fortunatamente sulla fine siamo riusciti a recuperare. Una sosta che sembra aver fatto bene agli uomini di Lorenzetti, ottime percentuali in attacco su tutte quelle di Aaron Russell, MVP con il 78% e 16 punti personali. Penso che all'inizio della partita c'era un ritmo un po' strano, perché hanno giocato una squadra con diversi giocatori, ma poi hanno cambiato e durante il secondo sette era molto più competitivo. Ma mi piace come abbiamo risposto su questo. Ottima prova anche per Lisinac, che chiude con il 69% in primo tempo e 13 punti. In doppia cifra anche Vettori e Sebul, 11 punti personali a testa. Lo sloveno è stato preferito a un non proprio in forma Kovacevic, che rientrava dall'impegno di Berlino con la Serbia. Sono molto contento di come siamo arrivati oggi a questa partita. C'era chi è stato sottoposto a uno stress psicofisico importante in questi ultimi giorni, alla qualificazione olimpica, e chi invece come noi è rimasto a Trento lavorare senza avere tanto ritmo nelle gambe, ma lavorando un po' sul fisico. Quindi questo mix è stato molto buono. Trento vince agilmente il primo set, fatica nel secondo, quando riesce a tenere fino alla fine, fino alla vittoria, i vantaggi. Poi riprende il controllo nel terzo decisivo periodo. 19-25, 29-31, 21-25 parziali. Prossimo impegno domenica, ore 18, alla BLM Gruppa Arena con Vibo Valencia per la terza giornata di ritorno. Grazie per la terza giornata.